E' una parzelletta, l'Italia è tutta una parzelletta, è tutto uno schifo, scusate adesso biglio un mercato nel panno che trago, c'è il tepotugno allo stomaco non è lavato, questa con me c'è sempre stata questa cosa con la Sicilia, ma non è colpa, forse è colpa dei siciliani perché votiamo male, però siamo diretti, ma siccome noi siamo una terra che è stata sempre predominata da Turchi, Salaceni, Arabi, Normanni e che più ne metta, allora noi sono abituati, la Sicilia è una grande poccata, però una cosa è chiara, che lo Stato ha avuto sempre collegamento con la mafia, in questo caso una cosa così concludo, perché non c'è da segnamento con film, io ho qualche cosa da dire anche a questo governo, io ce l'ho morto questo, perché c'è un'abbandonata nella classe artistica, noi siamo stati abbandonati da questi signori, se stiamo attenti ai cognomi, uno che si chiama Conte, si fa fare buoni Conte, buona fede, ma siamo sicuri che buona fede o il malafede, chiediamolo a Nino, oppure l'attore Nino De Matteo, uno che si chiama Boccia, già Boccia di un paese, ragazzi siamo attenti, ce l'ho abbandonato, io sono permesso, non ci fossero bisogno di inventare da questi qua, però siamo stati abbandonati, abbandonati, perché Boccia di un paese, tanto so, io ho felice.